Allora, io mando una richiesta. Ecco, vediamo, ormai te l'avete indovinato, perché è Benatia, adesso siamo, ecco, vediamo, io lo vedo. Mi senti? Mi senti? Sì, sì, la connessione non è il massimo, però sì, sì, ti vedo. Grande, grande, grande. Allora, come ho già detto prima, proviamo a portare a termine la diretta, perché ovviamente le connessioni sono tutte intasate. Instagram ha dei bug, quindi noi ci proviamo. Insomma, vediamo fino a dove riusciamo a arrivare. Grazie, innanzitutto, per questo collegamento, è stato molto gentile. Come stai, innanzitutto? Bene, bene, guarda, un po' come tutti, situazione un po' complicata, però così, ormai da due settimane siamo chiusi e cerchiamo di stare a casa e di fare quello che non abbiamo tempo di fare, sai, di solito, però situazione molto triste, diciamo. Assolutamente. Tu sei in Catara, in questo momento anche lì è quarantena, giusto? Sì, 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 certo. Possiamo uscire solo per allenarsi, ma da soli ovviamente è poco, fare la spesa e quelle cose lì, ma siamo tutti chiusi. Allora, cerchiamo un attimo di rompere i ghiacci da leggere un po' il tema, un po' anche l'ambiente, che è quello che cerchiamo di fare. Vedi, sappiamo che tu ci segui, giusto? Vediamo il canto di là. Sempre, sempre. Mi fatti morire ogni volta. E questo ci fa davvero molto piacere. Allora, prima domanda per gli amici italiani che stanno seguendo. Ti manca l'Italia? Eh, mi manca tanto, guarda. Mi manca tantissimo. Sai, l'Italia per me sarà sempre un paese, diciamo, particolare, come una seconda casa. Ho tantissimi amici in Italia e quindi sì, guardo tutto dell'Italia. Guardo l'attualità, guardo il calcio, seguo tutto. È un paese veramente che è molto importante per me. Benissimo, poi ci addentreremo anche nel dettaglio di cosa segue e quant'altro. Allora, partiamo subito un po' per cazzeggiare un attimo. Ti chiedo, il giocatore, se dovessi passare la quarantena con un tuo compagno o ex compagno di squadra, chi sceglieresti? Difficio. Ma direi Piani e Cio Matuidi, dai. Mire e Ubles, che sono quelli con chi ormai parliamo tutto il giorno al prossimo. telefono, facciamo anche diretti Instagram, quindi è un po' come se sto con loro. Però mi mancano tanti, ma anche gli altri. Però questi due, diciamo che... Un po' di più. Sì, ci diverteremo di più, certo, sicuro. Bley sta bene, no? Sì, abbiamo saputo che sta bene. Sì, 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 grazie a Dio sta molto meglio. Ormai sta bene lui, deve stare ancora a casa, però lui e la sua famiglia stanno bene e questa è una grande notizia. Assolutamente. Ti chiedo, c'è invece, scherzando ovviamente, un giocatore con cui dici no, questo non lo sopporterei, cioè non andremo d'accordo, tu è troppo finato, troppo deciso, troppo casinista. Eh sì, sì, subito, ti dico un nome. Mario Monzuki, sicuro. È troppo stressato in questo momento e sta qua con me nella stessa squadra, però non va neanche fuori a fare una corsetta. Lui sta a casa, ha comprato la bicicletta, non vuole uscire. Mi manda tutti i giorni i risultati di come sta andando questo maledetto virus. Mi metto un stress. Ogni volta che vedo il suo numero che scrive sul telefono so che c'è una brutta notizia. e quindi Mario ti vuole troppo bene, ma stare con te no, non è possibile. Esatto, una domanda era proprio su Mario, che tu con un periodo di squadra, un personaggio incredibile a cui, come te, d'altronde, tanti tifosi italiani sono molto legati. Ma una curiosità che hanno in tanti, compresa la mia, Mario, fuori dal campo, cioè in campo lo vediamo molto serio, duro, cattivo, fuori dal campo com'è? Sempre serio oppure uno che si lascia un po' andare? No, no, non si lascia andare uguale. Non parla tanto. No, con me, onestamente, con me sta benissimo. Con me mi conosce di più, no? Ormai sono un paio di anni che siamo insieme, quindi è un po' più aperto. Però quando è arrivato qua ho avvisato subito la gente, lo spogliatore, che arriva un compione, arriva un grandissimo giocatore, però una persona un po' particolare. Uno che non gli piace troppo scherzare, l'hanno capito subito, sai, lui è così. Però è uno che quando lo conosci, ovvio, gli piace anche scherzare così, ma deve avere fiducia, no? È uno che per guadagnare la fiducia di Mario ci serve tanto tempo, però alla fine è un buono, dai, è un buono. Quindi è un po' come, lo dipinge anche il campo, quindi è uno sempre serio che bisogna... Sì, sì, un po' come, esatto, esatto. Però, guarda, è uno, come dicevo, ti puoi sempre fidare su di lui, no? Chi sia sul campo o nella vita, se hai bisogno, lui c'è sempre. Ha l'immagine di quello che ha fatto in Italia, è sempre il primo a andare in guerra e l'ultimo a mollare. Quindi, veramente un grande. Lo salutiamo, lo salutiamo assolutamente, Marione Manzudic. Allora, entrambe nella tua grande carriera, medi, tu ho giocato in grandi squadre, Bayern Monaco è in Germania. Che differenza ha notato? C'è una, la prima che ti viene in mente, anche come viene concepito il calcio, tra il calcio in Italia e il calcio in Germania. Sì, diciamo che in Germania è più una festa, no? La gente viene allo stadio molto prima, sono stadio nuovi, pieni, si gioca per fare gol, c'è più spettacolo, no? Però, diciamo che l'Italia, quello che mi piace di più è che si gioca per vincere, non c'è una partita facile. Questo è bello del calcio italiano, che al Bayern Monaco mi ricordo tantissime vittorie, 6-0, 6-2, no? E un po' partite così. In Italia, anche con la Juve, abbiamo sempre sofferti. Ogni domenica vai in tutti i campi d'Italia, c'è da studare, le squadre sono preparate, quindi direi molto meglio in Italia a livello tattico e a livello di atteggiamento, no? Molto più, c'è più rigoroso, no? Si dice così, più... Le Germania giocano più per divertire, per fare i gol, per attaccare, si toglie Bayern Monaco e Dortmund, penso che il livello della Liga non sia così alto, diciamo. Allora, ricordo ai follower, se hanno delle domande da fare, poi Ale e Rodo le selezioneranno, quindi fatele. Intanto io proseguo. C'è una squadra, visto che ti stanno scrivendo tantissimi fan italiani che ti salutano e ti ricorrono con affetto, c'è una squadra a cui sei più legato rispetto alle altre? E se ce n'è una, eh? Difficile dire così. Ho avuto un grandissimo feeling quando sono arrivato alla Roma. Veramente la gente mi amava tanto e purtroppo sicuramente conosci la storia, ho dovuto andare. La Roma ha fatto una scelta, non mi hanno venduto e così. Però il calore che c'è a Roma è difficile trovare meglio. Però devo dire che quando sono arrivato in Italia ho visto due tipi di persone. Quelli che in Italia odiano la Juve. Purtroppo ogni volta che andavamo in trasferta era così. Però anche vedi tontissimi fani della Juve. C'è una tifoseria incredibile in tutta l'Italia, ma anche in tutto il mondo. E quindi sì, ho avuto la fortuna veramente di giocare in Italia, prima di tutto, dove il calcio è veramente una cosa importante per il paese. Ma giocare nella Juve e la Roma è stato sicuramente un grande privilegio. Infatti, detto Roma, detto anche Juve, tanti tifosi della Juve stanno scrivendo in questo momento. Comunque c'è un bellissimo ricordo anche legato a te, le tifosi della Juve, poi lo approfondiremo. Allora, domanda che facciamo a tutti gli ospiti che abbiamo. Con te è particolarmente interessante. E forse per te è più difficile anche rispondere. Può anche dire magari più di un nome. Allora, c'è un giocatore con cui hai giocato, uno che ti ha impressionato di più degli altri, il tuo compagno di squadra? C'è il giocatore più forte secondo te con cui hai giocato, quello che più ti ha impressionato, magari negli allenamenti, a vederlo. Sì, ma la risposta ormai non è una sorpresa. Cioè, nonostante che ho avuto la fortuna di giocare con tantissimi compioni, penso di poter dire Cristiano Ronaldo, semplicemente. Non vedo meglio di Cristiano. Che sia al Bayern, alla Juve, alla Roma. Ho giocato con i compioni. Penso a Totti, penso a De Rossi, Buffon, Lewandowski, Ribery. C'è un sacco di compioni incredibili. Ma Cristiano, uno che capisce di calcio, deve capire che quello c'è una cosa in più di tutti gli altri. E' un compione. Non so se nella vita vedremo ancora un altro Cristiano Ronaldo. Forse no. Infatti, una delle prossime domande era questa. Parlando con il capitano della Juve, Chiellini, col fratello anche, ci aveva detto che quando è arrivato Ronaldo ha alzato l'asticella anche degli allenamenti, solo anche per l'impegno che ci metteva. Quindi tutti davano di più. Anche tu hai notato questa cosa? Sì, sì. Dal primo giorno. Dal primo giorno. Lui arrivava, l'ho già detto tante volte, ma lui arrivava forse mezz'ora prima degli altri. si preparava, andava già in palestra. Era già morto prima di uscire, poi dava tutto sul campo. E quando tornavamo dentro, tornava in palestra. Ho detto, ma questo non può fare tutti i giorni, impossibile. E lui invece lo faceva tutti i giorni. Era la sua abitudine, no? Lavorava così. Io lo sapevo già prima che arrivassi alla Juve, perché sai, si parlava in giro di Cristiano Ronaldo. Però quando lo vedi, capisce che... Perché ha vinto tutto questo. E uno ha più talento di tutti. E due lavora come un mato. Quindi è normale che vince tutto, no? Però era una cosa impressionante, veramente. Mentre, anche qua non è facile, perché hai giocato contro grandi campioni. C'è il giocatore più forte contro quel giocato. Quello che quando c'è giocato contro hai detto, questo è di un altro livello. Ma guarda, direi Cristiano uguale, anche se contro di me, fortunatamente, mi è sempre andata più o meno bene. Perché sei stato bravo tu, se mi dirlo. No, no, no. Perché eravamo sempre a due contro di lui. Perché, sai, bisogna raddoppiare le marcature, così. Però, sì, Cristiano, sicuramente difficile. Messi, Messi era era forte, mi ricordo, al Bayern Monaco in semifinale Champions. 1-0-0 in semifinale. Ha fatto la pinte su Boateng. Poi ha fatto il terzo, come si dice in italiano, un gol malvito. Esatto. Io stavo là, purtroppo non sono riuscito a prendere il pallone. Però, Messi ha fatto la differenza. Ha fatto due gol in dieci minuti, ma ho perso 3-0 in semifinale Champions all'andata. E voglio dire anche Neymar, perché mi ricordo anche Neymar di Barcellona. Anche se lo vedo ultimamente meno bene a Parigi, però a Barcellona era un fenomeno. Anche lui era imprendibile. Ha fatto un gol contro di noi alla Juve in amichevole a Miami, se non sbaglio, sempre in pre-season. Ha fatto una cosa, guarda, ha fatto cadere a me, a Barzagli, a Lama, a quell'altro, a tutti. Ha fatto un gol incredibile. Hai detto due nomi, non proprio da ridere. Infatti la mia curiosità era l'Ezzadetta, poi terra, il gol di Messi contro il Bayern, dove tu eri in campo con la finta su Boateng, che è storica e viene riproposta spesso. Allora, vedo dei cuori giallorossi, ne approfitto, dei fan della Roma. Il ricordo più bello tuo con la maglia della Roma? Era un'anata, guarda, un'anata speciale questa. abbiamo fatto dieci vittorie su dieci partite per iniziare. Mi sa che abbiamo ancora il record. Non so se qualcuno l'ha fatto dopo di noi, credo di no. Non lo so, onestamente, però... Credo. Dopo, abbiamo fatto più di 90 punti, c'è la La Juve che ha fatto più di 100 quest'anno là, quindi siamo arrivati i secondi. Forse ricordo più bello il gol che ho fatto con la Sampdoria, Genova. era una partita importante, ho recuperato una palla in anticipo a metà campo e sono andato uno o due vissà con Strootman, se non sbaglio. Faccio un dribbling, entro dentro l'aria, uno mi fa una scevolata e raffallo, però io sono a terra, sono riuscito a calciare con il sinistro e vedi Strootman che corre sull'albito per chiedere i rigori, non aveva visto che ho fatto i gol. Tutta la planchina su di me, mi ricordo De Rossi, Mille, era un momento sicuro il tifoso della Roma se lo ricordo questo e per me era un bellissimo momento. Un gol d'attaccante insomma, da bomber mancato. Lo so, da bomber, ma sicuramente un po' di fortuna e un po' di grinta, sì, era un bel gol da me che c'era. Mentre con la Juve ricordo più bello legato alla maniera bianconera? Ma direi la finale di Coppa Italia a Roma che ho fatto doppietta con il Milan perché una finale, due giochi con il Milan che il Milan in Italia è una squadra troppo importante, no? A Roma è un stadio che per me come ti dicevo rimarrà sempre una cosa speciale e faccio doppietta così per un difensore è un bel ricordo, sicuramente è un bellissimo ricordo. certo. Mentre tasto non dico dolente però da Juventino la partita di Madrid quella partita che avete fatto a Madrid è il famoso 3-1 ed è una partita più belle più emozionanti della storia. C'è poi quell'episodio alla fine tu ci pensi ogni tanto ancora ti è rimasto impresso l'hai voluto dimenticare perché comunque avete fatto una partita senza senso assurda. Sì, sì, sì ma a volte mi capita di guardare le partite e vedo sai un fallo similare e dico guarda quello non ha fischiato per dire perché come l'ho detto all'epoca te lo ripeto adesso ormai è tutto finito tutto chiuso ma per me non era fallo non era fallo perché perché ho cercato assolutamente di non toccarlo non l'ho spinto se l'ho toccato era con la coscia ma non sono neanche sicuro perché lui non mi ha visto arrivare era sorpreso e l'unica cosa che poteva fare era cadere perché pensava di far gore a porta vuota che Gigi mi sa che era a terra e è stato furbo però come abbiamo detto dopo si dà un rigore all'ultimo seconde in Champions League così devi essere sicuro che era rigore invece là non era il caso quindi certo che è una cosa che brucia dentro perché ti dico meglio sono sicuro che se passavamo questo torno potremmo fare qualcosa di veramente speciale dopo però il calcio è così dai è così Bello della Champions purtroppo però è stata veramente una partita incredibile l'allenatore era Max Allegri un ricordo che ha legato a lui una cosa che ti ha più colpito del mister ma io se sono andato è un po' colpa sua quindi non so dirti una cosa che mi ha colpito no però come ho già detto mille volte per me mi hanno sempre un granenatore ha vinto tantissimo quello che ha fatto la Juve tutti hanno tanto rispetto per il suo lavoro però come ho già detto con me alla fine non è stato onesto mi ha fatto delle promesse che non ha tenuto e io sono uno di parole quindi l'ho preso molto male ho deciso di non più giocare per lui avevo detto alla Juve che per questo allenatore non volevo più giocare però non ti posso dire una cosa brutta perché per me sono un po' vinto che Allegri sia uno dei più bravi allenatori che c'è in sicure azioni solo che quando dici una cosa a un uomo nello spogliatoio un giocatore devi rispettare non puoi fare il contrario un mese dopo perché se no non sei un uomo ma non voglio dire che non lo è perché sicuramente è una bellissima persona per quello sai non ho niente contro di lui però no una cosa una cosa positiva era ogni partita che giocavamo che sia contro non lo so il Sassuoro il Verona per lui era sempre la partita della vita ti faceva capire che si giocava la finale di Champions per dire era molto bravo a dare la prossima partita come quella più importante e per quello che la Juve non mollava appunto secondo me era una delle sue qualità poi basta molti ci dicevano che Allegri che noi lo invitiamo spesso l'avrai visto e che riusciva a prendere un po' alla leggera le cose dava le cose più leggerezza non dava pressione questa cosa l'avevi notata che non dava pressione alle partite ma sai quando sei quando sei alla Juve che c'hai un gruppo di giocatori responsabili sono tanti campioni ormai la pressione c'è è normale che c'è ogni domenica giochi con una squadra che ti senta per morire sul campo perché vuol vincere contro la Juve quindi la pressione c'è però alla fine è solo calcio dai alla fine in queste squadre lì quelli che stanno in queste squadre penso che capiscono devi dare il massimo ma senza neanche avere paura di che è solo un sport non è che devi fare chissà cosa no no Allegri per me nella sua interpretazione delle partite così era bravo era bravo è bravo allora parlato appunto di quando te ne sei andato via dalla Juve tantissimi tifosi io compreso ti abbiamo un po' rimpianto quando te ne sei andato perché poi la Juve ha avuto anche dei problemi in fase difensiva tu hai percepito da parte anche dei tifosi questa voglia che tu tornassi e rimpianto di averti ceduto ti è arrivato questo messaggio sì onestamente mi ha fatto anche molto piacere perché ho riuscito ma ancora adesso ancora oggi ancora oggi ricevo tanti messaggi ma tantissimi messaggi di 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 sono giocatori sono anche tifosi devi tornare da noi a fine anno devi tornare ma tanti tifosi della Juve è ovvio che mi fa molto piacere perché si vede che hanno capito che ho sempre dato il massimo io non ho mai rubato non ho mai mi sono mai nascosto ho sempre cercato di dare il massimo con le mie qualità e niente qualcosa di buono l'ho anche fatto e vedere la gente così che si ricorda del mio lavoro sai è bello sì sì enorme c'è un allenatore a cui sei più legato se ce n'è uno a cui devi qualcosa di più degli altri ma direi il mister Guindolin il mister Guindolin l'ho sentito una settimana fa un grandissimo allenatore una persona veramente lui è per me lui è il classico allenatore che gli dai un giocatore normale e lui te lo fa diventare forte gli dai uno forte te lo fa diventare un top player come idea Guindolin con noi all'Udinese si guardi ha avuto tutti ha avuto Quadrado Sanchez Di Natale Inler Asamoa Andanovic e lui siamo arrivati tre volte di seguito tre volte in Europa abbiamo fatto due volte preliminare Champions League una volta l'Europa League e grazie a lui per come lavora per come ti fa capire la professione per come ti fa interpretare il lavoro lui non molla niente non molla un centimetro come dice lui sta sempre ad osso sta sempre lì per me ha una mentalità nuova appena arrivato in Italia non capivo perché era così rigido questo è strano non ride mai non scherza mai però alla fine aveva ragione lui e uno guarda da lui ho imparato tantissimo Allora parola di Guidolin adesso mettiamolo un po' sul ridere il compagno più casinista o simpatico nello spogliatoio prima della Juve il più casinista sono tanti alla Juve che fanno casinista nello spogliatoio ci dico la verità forse il numero uno direi quadrato ah quadrato quadrato sì ma anche Douglas anche Dybala dai sai tipo vai alla doccia ti giri per cambiarti questo prendi il calzino in mano te lo butta fa ponte di niente qui sono bambini questi sono bambini questi tre però forse è quadrato perché quadrato non si ferma anche quando vai a cena ti fa le continuo sì sì c'ha sempre qualcosa quindi mentre a Roma ce n'era qualcuno in particolare a Roma a Roma a Roma a Roma chi c'è sì Checco Totti gli piace scherzare anche il capitano c'ha sempre una battuta gli piace anche divertire sì sì poi a me mi prendeva sempre in giro quindi sì Checco era divertente e al Bayern erano tedeschi al Bayern era Ribery no Ribery Ribery scherzo della mattina alla sera che prendeva me Alaba anche David Alaba prendevamo sempre in giro però anche uno terribile ma penso che anche la Fiorentina deve fare queste calzioni perché lui non si ferma è inarrestabile sì sì però anche così allora domanda alla Marzullo c'è qualcosa che non rifaresti nella tua carriera cioè se potessi tornare indietro direi questa scelta io non la non la rifarei se c'è perché guarda io non penso così sai non mi piace pensare negativo preferisco alla fine guardare sempre il positivo sono di natura così cosa no sono contento di quello che ho fatto dai poi si poteva fare di più si poteva fare meglio sicuramente ma anche peggio non rimpianti però quindi no rimpianti onestamente non ne ho non ne ho sono contento orgoglioso di quello che ho potuto fare con le mie possibilità allora domanda che stanno facendo in tanti ti piacerebbe tornare in Italia a giocare perché se devo scegliere sicuramente sarà l'Italia perché l'Inghilterra Germania ma anche la Francia non mi interessa più di tanto quindi se un giorno devo lasciare il Catare per andare a giocare in altro posto sicuramente sarà in Italia come ti dicevo è come la seconda casa per me quindi è naturale sarà una scelta naturale speriamo di rivederti presto a questo punto anche così per il Fanta Calcio insomma sei un difensore che poi regala bonus quindi il Fanta Renatori allora vedi adesso c'è il momento del quiz sul calcio che riguarda qualche tuo compagno di squadra allora sei pronto? puoi usare anche le io non ho memoria quindi per i quiz dai andiamo ma è difficile allora prima domanda riguarda l'abbiamo già parlato prima Marione Mandzukic invito anche follower ad aiutare poi vedi te se fidarti perché non è detto che dire la risposta giusta Mandzukic ha vinto una Champions League nel 2013 in finale contro quale squadra? ti do le opzioni Manchester United Barcellona Chelsea o Borussia Dortmund Borussia Dortmund sei sicuro? accendiamo? penso di sì perché c'è un dubbio con Chelsea cosa hanno fatto con Chelsea? accendo? e vai io direi Dortmund giusto Borussia Dortmund era Bayern Monaco Borussia Dortmund e Mario quindi quando lo vedi puoi dire io di te so tutto quindi hai scampato lui l'ha vinto Miralem Pjanic in che anno è nato Miralem Pjanic? 1987 1990 90? così? ha fatto 30 anni ieri questo è il fratello non potevo farla più difficile eh mille no mille so tutto 1990 allora adesso ti faccio vedere una foto allora questa foto è una foto storica per i tifosi della Roma perché è la partita che poi ha regalato lo scudetto alla Roma allora ti chiedo era il 2001 che arrivò secondo in quel campionato Juventus Inter Milan o Lazio la Roma vinse lo scudetto era il 2001 arrivò secondo una di queste quattro squadre Juve Inter Milan o Lazio vediamo se la gente a casa suggerisce io i messaggi li ho bloccati quindi non riesco a vederti io ho un'idea ma non so sicuro che ide hai che ide hai 2001 2001 ma allora ci fu una rotta scudetto molto accesa direi l'Inter ma non so sicuro guarda Inter accendiamo accendo vai era la Juventus però vabbè un 2 su 3 direi rispettante chi c'era all'epoca la Juve in 2001 allenatore era Ancelotti ok fu i due anni in due anni sono seconda prima con la Lazio poi con la Roma però vabbè si parla di tanti di tanti anni fa Mery allora finisce qua noi ti ringraziamo davvero tanto sei stato gentilissimo disponibilissimo davvero con piacere ti mandiamo un grosso braccio un grosso boccalugo e poi ti aspettiamo in Italia quando vuoi tornare grazie un saluto a tutti voi veramente in questo periodo io sto vicino e spero che passa in fretta un grande abbraccio a tutti voi grazie di tutto ciao Mery grazie mille un abbraccio eccoci qua allora finita qua con Benaziana bellissima chiacchierata è stato molto molto gentile molto simpatico grazie ragazzi tutti voi che ci avete seguito siete rimasti in tantissimi connessi attenzione e trepro che me grolla così bene anche nel quiz un 2 su 3 rispettabilissimo ci ha detto delle cose interessanti Andrea Bazzali dice qual è il ricordo che qual è il gol che ricordi con maggior piacere il mio beh insomma ne ha fatti tanti di gol erano ovviamente per benati anni ne avevano fatto il tempo a leggere mi si era bloccato i pochi messaggi ma grazie a cielo che almeno la connessione è rimasta in piedi in questi giorni Instagram fa le bizze ragazzi grazie per averci seguito un grosso abbraccio fate i bravi state a casa noi torneremo presto questa settimana con le live finisce qua vediamo se riusciamo a tornare anche settimana prossima ciao ragazzi un abbraccio ciao ciao a tutti ciao Fabi Fer ciao Diego ciao Moura Joy ciao a tutti ciao